Esercizio per il raggiungimento dell'oggetto e per la presa di coscienza della distanza della mano dalla linea mediana. In questo esercizio lavoriamo sul raggiungimento delle tre palline utilizzate nel gioco di magia. Per prima cosa disponiamo le tre palline sul tavolo in fila. Dovrò accompagnare in maniera molto delicata la mano dell'arto debole verso le tre palline per poterle far memorizzare. In un secondo momento accompagno poi la mano verso una delle tre palline e il bambino dovrà riconoscere da quale pallina siamo andati. Lo posso ripetere più volte cambiando la disposizione delle palline. Ovviamente più saranno ravvicinate tra loro più l'esercizio risulterà complesso. Vieni Mario, mettiti in piedi qui di fronte al tavolino. Allora guarda abbiamo le tre palline usate nel gioco di magia. Adesso te le faccio sentire a occhi chiusi. Chiudi gli occhi, rilassa il braccio. Questa è la prima pallina. Qui andiamo verso la seconda pallina. E questa è la terza. Ok? Ora andiamo verso una delle tre palline. Mi devi riconoscere qual è? La prima. Bravissimo. La terza. Ok, cerca di stare fermo. Muoviamo solo il braccio. Questa qual era? La prima. Ti faccio sentire la prima. Questa è la prima. Noi siamo andati qui. La seconda. Bravissimo. Apri gli occhi. Ora cambiamo la disposizione. Li mettiamo così. Ok? Chiudi gli occhi che te le faccio sentire. Partiamo dal centro. Questa è la prima. Torno al centro. Questa è la seconda. Non spostarti Mario, eh? Resta bello dritto. E questa è la terza. Vado, eh? La prima. Bravissimo. La terza. Ok, aspetta che mi fermo prima di rispondere. La terza. Perfetto. Ok. Bravo. L'immagine motoria del raggiungimento. Immagine motoria del raggiungimento. In questo esercizio sfruttiamo l'immagine motoria come anticipazione quindi di percezione del movimento facendo scegliere al bambino da quale di queste tre palline si voglia andare. Accompagno poi il gesto del raggiungimento e chiedo se quello che aveva immaginato corrisponde a quello percepito. Vieni Mario. Forza. Allora, abbiamo tre palline. La prima, la seconda e la terza. Uno, numero uno, numero due. E numero tre. Bravissimo. Adesso scegli ne una senza dirmelo. Chiudi gli occhi. Adesso mettiti però in ginocchio. Ok, bravissimo. Abbassa il braccio destro. Immagina che io ti porti la mano verso la pallina che hai scelto tu. Ok? Vado? No. Non era questa? Sì. È questa? Quindi che pallina avevi scelto? La due. La due. Cos'è che è diverso tra quella che ti ho fatto sentire io? Perché è fricco e perché è sotto. La mano è un po' più verso l'esterno rispetto al tuo centro, alla tua metà. La mano è un po' più verso l'esterno e la spalla è un po' più aperta. Lo senti? Ok. In questo modo, con queste parole, gli facciamo focalizzare la sua attenzione tra le differenze tra l'immagine motoria che ha creato lui autonomamente e la percezione effettiva. facendolo rendere consapevole di ciò che a livello corporeo è diverso. Esercizio per il raggiungimento della pallina in maniera attiva assistita. In questo esercizio proponiamo il movimento di flesso estensione del gomito, implicato nel raggiungimento, questa volta però con la partecipazione del bambino, quindi in maniera attiva assistita. Vieni Mario, mettete qui davanti il ginocchio. Allora abbiamo le nostre tre palline, la uno, la due e la tre. Ora occhi aperti, andiamo insieme, salute, verso tutte e tre, una alla volta. Andiamo verso la prima, guardale, memorizza bene il movimento. L'altro braccio fermo, fermo giù, poi andiamo verso la seconda Mario, ok, e ora verso la terza. Ricominciamo uno e torno al centro, ok, così. La due, così, e la tre, così. Ok, ora chiudi gli occhi Mario, tiri il braccio giù, benissimo, ora ti dico io dove dobbiamo andare. Andiamo verso la terza, insieme, bravissimo, così. Torno al centro, ora andiamo verso la prima, ok. Ok, e ora verso la seconda, ok. Apri gli occhi Mario, adesso le spostiamo le palline. Attento, ok. Le mettiamo così. Lascia il braccio giù adesso. Guardale bene dove sono, eh. La uno, la due e la tre. Ok, chiudi gli occhi, andiamo verso la tre, benissimo, verso la due, perfetto, verso la uno. Ok, bravo. Esercizio per il raggiungimento dell'oggetto e per la presa con bussolotti. In questo esercizio utilizziamo un cartellone quadrettato e i tre bussolotti utilizzati nel gioco di mangi. In un secondo momento posso anche chiedere di riconoscere l'orientamento della presa. Facciamo sentire al bambino i tre bussolotti accompagnando il gesto della presa e chiederemo di riconoscere appunto in che posizione si trovava il bussolotto che gli facciamo sentire. In un secondo momento posso anche chiedere di riconoscere l'orientamento della sua mano alla presa, ovvero se la presa venga effettuata dall'alto oppure lateralmente. Vieni Mario. Allora, mettiti in ginocchio. Ok. Allora, guarda bene questo cartellone. Abbiamo tre bussolotti. Uno. Il. Esatto. Fanno un triangolo. Se noi li possiamo anche chiamare per colore. Abbiamo quello verde. Fanno un triangolo, è vero? Sì, più o meno. Però non devi pensare al triangolo, devi pensare dove sono posizionati. Allora, ecco qui, c'è la linea rossa. Ok, il rosso. Ecco tre, ecco tre. Ok. Hai visto bene dove sono i bussolotti? Ok. Ora, chiudi gli occhi, abbassa il braccio destro. Te li faccio sentire. Questo è il bussolotto verde. Ok. Lascia pure Mario senza che lo afferriamo. Questo è il bussolotto rosso. Questo è quello rosso. E questo è quello giallo. Ok. Ora mi devi dire che bussolotto ti faccio prendere. Quello verde, bravissimo. Quello rosso. Quello rosso. Ok. Quello giallo. Quello giallo. Ok. Apri gli occhi Mario, adesso li spostiamo. li mettiamo così. Ok. Quello giallo rosso. Sì, adesso lo facciamo un po' più difficile. Non ti li faccio sentire più. Mi devi subito riconoscere. Quindi memorizza bene verde, giallo e rosso. Quello giallo rosso. Quello giallo rosso. Quello giallo rosso. Ok. Ti ricordi? Abbassa il braccio destro. Devi indovinare, eh? Salio. Bravissimo. Ok. Perché? Ok. Rosso. Perfetto. Adesso Mario mi devi riconoscere non solo da quale bussolotto andiamo, ma anche come lo prendiamo. Lo possiamo prendere dall'alto così, oppure così, di lato. Ok? Allora, li mettiamo così, eh? Quindi verde, giallo e rosso. Verde, giallo, rosso. Non li spostare, Mario. Lascia giù il braccio. Questo braccio destro. Mi raccomando, non muoverlo. Perché giallo rosso. Perché giallo rosso. Ok. Perché giallo rosso. Chiudi gli occhi. Per così. Per così. E che bussolotto è? Giallo. Giallo. Bravissimo. Ancora. Per così. Così come? Fammi vedere con l'altra mano. Da sopra. Che bussolotto è? Giallo. Verde, verde. Quello verde. Bravissimo. Adesso. Verde, così. Così. Fammi vedere con l'altra mano. Bravo. Ed è quello, hai detto? Verde. Verde. Ok. Ancora una volta. Abbassa il braccio destro, Mario. Ok. Rosso. Rosso. Così. Da sopra? No. Bravissimo. Ok, Mario. Apri gli occhi. Esercizio per la presa a pinza e per il raggiungimento dell'oggetto. In questo esercizio facciamo prendere con la mano plegica del bambino tra pollice indice la pallina utilizzata nel gioco di magia. E accompagniamo il gesto del bambino. E accompagniamo il gesto del appoggiare la pallina sopra uno dei tre bussolotti. Dovrà riconoscere ad occhi chiusi su quale bussolotto abbiamo appoggiato la pallina. Vieni qui, Mario. Ok. Mettete in ginocchio. Bravissimo. Allora, adesso prendiamo la pallina con la mano sinistra. Ok. Vedi dove sono i tre bussolotti? Giallo. Giallo, verde e rosso. Memorizza bene dove si trovano che adesso ci appoggiamo sopra la pallina. Giallo. Esatto. Poi c'è il verde che è un po' più in alto. E più a destra c'è quello rosso. Ok. Te li ricordi? Adesso abbassa il braccio destro. Mettilo giù lungo il fianco. Chiudi gli occhi, Mario. Andiamo ad appoggiare la pallina su uno di questi tre. Lascia la pallina. Giallo. Sul giallo. Benissimo. Riprendiamo la pallina. e andiamo. Rosso. Attento, Mario. Sul verde. Ok. Ancora ritorno. Rosso. Sul rosso. Benissimo. Apri gli occhi, Mario. Adesso li spostiamo. Li mettiamo così. Guarda bene. Giallo, verde e rosso. Ok. Cerca di ricordarteli. Allora, il rosso è su 4. Sì? Perché sull'A e sull'A. Sul 4B. Sì. Vedi, qua c'è la lettera B. E poi... E poi... E tra lo C2. Ok. Proviamo, Mario. Prendi la pallina, abbassa l'altro braccio e chiudi gli occhi. Abbassalo, eh. Ok. Andiamo. Sul giallo. Sul giallo. Prendi bene la pallina. Proviamo proprio a prenderla e appoggiarla, eh. Quindi lascia la pallina. Vecca. Ok. Adesso la riprendiamo. Bene. Col pollice e l'indice, Mario. Ok. Andiamo. Adesso. Rosso. Rosso? Ti ricordi dov'era il rosso? Eh, allora, siamo andati lì noi adesso, no? Che colore era questo qui? Era il giallo. Esatto. Ancora una volta, Mario. Prendiamo bene la pallina. E' rosso. E' rosso. Benissimo. Esercizio di pronosupinazione del gomito a più velocità. Facciamo sentire al bambino un movimento di pronosupinazione effettuato con l'articolazione del gomito a tre velocità diverse. Un movimento lento, uno veloce ed uno ad una velocità intermedia. Gli ne faremo poi sentire uno ad occhi chiusi e lui dovrà riconoscere il grado di velocità. Anche questo è un esercizio utile per il controllo della reattività abnorme allo stiramento. Vieni, Mario. Allora, bravissimo. Metti giù l'altro braccio. Adesso ti faccio sentire tre movimenti, eh. Uno lento-lento, uno veloce-veloce e uno normale. Poi tu mi devi riconoscere qual è. Chiudi gli occhi. Questo è lento-lento. Senti come la mano si gira. Tieni ferma la spalla. Cerca di stare fermo, Mario, eh. Questo è veloce. E questo è normale. Ok. Ok. Vado, eh. Questo che movimento è? E' normale. Ti faccio sentire quello normale. Questo è normale. Io te l'ho fatto sentire, esatto, un po' più piano. Ancora, rilassa il braccino che lo muovo io. Vado. Veloce. Questo era veloce. E' normale. E' normale. Bravissimo.